Grazie al sindaco per essere qua presente, con la Marcella abbiamo investito molto per fare questa iniziativa a favore di tutti gli espositori e ringraziamento a tutti gli espositori che hanno creduto in noi in questa manifestazione. Cercheremo di farla crescere ogni anno e cercheremo di essere sempre vicini a voi. Comunque l'artefice di tutto questo è la Marcella ed è lei che si merita di tutti. Un'avventura che andrà oltre gli sposi per quanto riguarda la nostra organizzazione. Comunque intanto volevo ringraziare i miei espositori, li ritengo miei nel senso affettivo del discorso, che hanno creduto in questa mia scelta di spostare una struttura che era consolidata in una location che è stata storica per anni, però avevamo bisogno di altro e di riconoscerci in un territorio diverso, in servizi nuovi, soprattutto per invogliare molto di più i visitatori. È una fiera nata 14 anni fa che nel corso degli anni ha subito tanti alti e bassi ed è stata molto copiata. Sono sicura che quello che abbiamo raggiunto quest'anno è il livello massimo. Io sono soddisfatta degli espositori che ci sono oggi perché hanno lavorato tanto per essere presenti in un certo modo, hanno studiato lo stand, non sono a caso presenti. e soprattutto le aziende che sono presenti sono artigiani, sono artigiani nel senso generale del discorso, sono professionisti che sono cresciuti nel tempo e sono realtà consolidate e che garantiscono professionalità soprattutto per i giovani sposi. Mi riallaccio al discorso del sindaco che ha detto che matrimonio è positività e questo è importante anche per questa zona di Padova che non è secondo me capita. Quindi portiamo il nostro valore aggiunto perché questo posto venga conosciuto. Io vi auguro in bocca al lupo, mi auguro in bocca al lupo e buon lavoro a tutti!